salve a tutti ragazzi ecco qua il salmone ovvero la coda del salmone che parliamoci chiaro questo senza una spina quindi è tutta carne davvero quindi l'ho consigliato anche alla signora grazie che lei mangia solo pesce quindi ecco qua lo sto riprendendo da tutti i lati giusto per farvi vedere non c'è una sola spina quindi una volta sfilettato è perfetto ragazzi vedete non c'è un'ombra di qualche spina si vede benissimo quindi lo consiglio a tutti gli amanti del salmone poi eccolo qui ho fatto anche la foto già cotto e io ho usato semplicemente una padella un po di acqua un po di olio extravergine giusto due girate una da un lato e dall'altro lato niente più eccolo qua facile semplice nulla di complicato questo è il primo pezzo questo è il secondo pezzo quindi buon appetito a tutti ciao ragazzi